È stata posta una pietra tombale, almeno per ora, sulla costituzione di un distritto sanitario unico del Valdarno. Nella riunione tenutasi oggi in Palazzo Tarnolfo a San Giovanni e alla quale hanno preso parte i sindaci della vallata, nonché i direttori delle due asole Toscana Centro e Toscana Sud-Est, l'assessore regionale Stefania Saccardi ha reso noto l'impossibilità del progetto. Questo perché non tutti i sindaci sono d'accordo, ha detto Saccardi, a confluire nell'azienda sanitaria Toscana Centro con Firenze Prato e Pistoia. Però al tempo stesso si andrà verso un'integrazione fra i due ospedali, il Santa Maria Lagruccia e il Serrestori. Mi pare che non ci sia stata una decisione unanime dei sindaci, naturalmente noi ne abbiamo preso atto. Nel percorso di riorganizzazione delle zone distretto abbiamo lasciato molta libertà alle amministrazioni comunali di poter scegliere il proprio assetto. La legge regionale tuttavia contiene un limite che è quello di non poter scavalcare i confini delle aziende sanitarie neocostituite. Tutto ciò sarebbe stato possibile se forse ci fosse stata una posizione di unanimità dei sindaci che non c'è stata. Noi ci siamo limitati a registrare questo dato e a registrare l'impossibilità di realizzare un distretto unico. Questo non vuol dire che le zone non possano collaborare sotto tutti i profili. I due plessi ospedalieri continueranno a collaborare. Abbiamo anche previsto una serie di investimenti, 3 milioni e 7 sul Serrestori, nuove figure professionali alla gruccia dai primariati di ginecolosigia, di emergenza urgenza, di rianimazione, il direttore del presidio ospedaliero e quindi un investimento complessivo sui due ospedali che possono lavorare di comune accordo nonostante si trovino fisicamente in due aziende sanitarie diverse. In merito al Serrestori poi non c'è nessuna volontà di chiuderlo. Sembra che sia sempre la solita politica di alimentare le paure e non di aiutare i cittadini ad avere fiducia nelle istituzioni. Ma le direzioni delle due aziende sanitarie cosa ne pensano? Per quanto riguarda l'ospedale di Fillini si conferma l'accordo nei patti territoriali per cui l'azienda sarà impegnata. Per quanto riguarda l'integrazione dell'ospedale della gruccia noi siamo disponibilissimi a collaborare perché abbiamo dei punti di eccellenza dell'ospedale di Fillini. È chiaro che l'ospedale di Santa Maria è un ospedale più grande quindi noi ci possiamo rapportare così come l'ospedale di Serrestori si rapporta con l'annunziata che è un nostro ospedale. C'è la massima disponibilità da parte del direttore generale. Il fatto che si sia deciso di fare un protocollo unico che vede naturalmente la regione garante e poi i sindaci presenti, firmatari e le due aziende ottiene lo stesso risultato che se avessimo unificato il distretto. Davvero io di questa potenzialità ne sono convinto. Si tratterà di farlo bene in modo che sia l'ospedale di Fillini sia l'ospedale del Valdanno trovino in questo una sinergia e non un depotenziamento reciproco. Ma le condizioni teoriche ci sono perché Fillini deve avere tutte le specialità di base e la proiezione delle specialistiche. E il Valdanno, a Retino, con l'ospedale della Gruccia deve vedere in questo un ampliamento di casistica che giustifica anche in prospettiva fra dieci anni il mantenimento di tutto ciò che ha e magari un adeguamento di innovazione.